amici ristogolfisti lunedì 6 maggio siamo milano al samsung district where people and future meet per la presentazione del circuito ristogol 2019 by alliance abbiamo presentato il nostro charity partner di questa edizione la fondazione cecilia gilardi onlus abbiamo ringraziato i nostri prestigiosi sponsor grazie davvero a tutti i nostri sponsor che condividono lo spirito ristogolfo e un saluto finale dal nostro vicepresidente giancarlo morelli e dal nostro presidente chicco cerea per dare inizio al circuito ristogol 2019 by alliance al motto di ristogolf giocare a golf mangiare bene bere bene e tanta voglia di divertirsi anche per questa edizione 2019 nelle diverse tappe non mancherà mai la convivialità e l'allegria contagiosa di noi eristogolfisti che godiamo nello stare insieme